Ciao ragazzi, questo è il risultato della mia assicurata fatta con cartoni che avevo in casa e li ho impacchettati come per fare un pacco regalo qua sopra c'è la terrazza dove i sacerdoti cercavano di comunicare con il dio protettore e qua c'è il tempio dedicato a loro queste sono le scale, le scale centrali erano dedicate ai sacerdoti mentre quelle laterali agli abitanti oggi c'è la assicurata di Ur che è accessibile ai turisti ma non tutti ci possono andare visto che in mezzo ha nulla e non si sta nessuna struttura e non c'è nemmeno una guida turistica è un peccato perché sarebbe stato bello andarla a visitare spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo ciao azione toma 2 ragazzi questo è il risultato della fammi così quando vai ok azione ciao ragazzi questo è il risultato della mia assicurata fatta con cartoni che avevo in casa ho impaccati come si dice ciao ciao